Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Ripristino l'angolo Serie C perché siamo ai playoff nazionali, la fase nazionale, uno dei tornei più cinici, più duri che esistono al mondo. Le squadre arrivano dai tre gironi, combattono, si scontrano anche in sfide interdivisionali e alla fine una sola squadra accede alla Serie B andando a completare il novelo delle promosse con chi invece è stato capace di vincere i gironi. Ieri c'erano le partite di ritorno della primo turno nazionale, la sfida che ho scelto di seguire Foggia-Cerignola perché ero curioso di vedere se gli uomini di Deglio Rossi sarebbero riusciti nell'impresa di rimontare il 4-1 con cui erano stati per certi versi sorprendentemente sconfitti nella gara di andata. Foggia ce l'ha fatta, ha vinto per 3-0 trovando il gol della qualificazione con una rete di Contec nel finale nei minuti di recupero sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Foggia che è stato trascinato dal calore del pubblico, pubblico che era stato duro nel reagire alla brutta sconfitta del girone d'andata però ha saputo stringersi alla grande attorno alla squadra. Foggia che ci ha creduto, ha giocato una buona partita, ha sprecato delle occasioni con le quali avrebbe potuto rendere un pochino più semplice il percorso qualificazione perché infatti il gol che poi ha sbloccato la sfida è arrivato al minuto 78, Deglio Rossi è stato bravissimo anche con le sostituzioni perché all'intervallo aveva tolto l'indeciso Routiens inserendo Leo al suo posto ma soprattutto a metà della ripresa aveva tolto di noia e inserito Schenetti. Proprio Schenetti è stato il giocatore chiave a mio avviso in questa rimonta sia perché ha portato un apporto emozionale veramente notevole dal punto di vista del coinvolgimento con i compagni, polemiche con l'arbitro, molto vivo, molto attivo sia perché al minuto 78 ha trovato il gol del 1-0. Il Cerignola ha giocato una partita molto accorta, troppo rinunciataria probabilmente perché quel paio di volte che in realtà si è presentato dall'altra parte nei prezzi della difesa del Foggia è stato anche relativamente pericoloso con un colpo di testa di Malcone nel primo tempo e una conclusione anche nella ripresa poi parata dal portiere Dalmasso. Il Cerignola però che per il resto ha piuttosto un inserimento anche di Sainz-Maza però ha per il resto scelto di difendersi. Il Foggia ha attaccato ma non si è buttato scriteriatamente all'attacco e soprattutto il Cerignola ha difeso malissimo sui calci d'angolo. Tutte le chance principali infatti del Foggia arrivano sui sviluppi di un calcio d'angolo in particolare nel primo tempo era stato incredibile il gol che aveva sbagliato Contec che forse sorpreso dal fatto che al vertice dell'area piccola fosse completamente libero dopo un intervento in mezzo all'area e aveva messo alto una palla che veramente era più facile realizzare il gol che non tirare la palla oltre la traversa. Però nel secondo tempo ha ancora un'altra chance per Contec questa un po' meno... nella quale ci sono meno colpe per lui per aver sbagliato il punto e poi invece il Schenetti è bravissimo a sfruttare sempre un calcio d'angolo nel quale peraltro Cerignola è in 10 perché c'è un giocatore a terra fuori dal campo e Schenetti realizza con un diagonale dall'interno dell'area. Foggia in vantaggio e a quel punto davvero devo dire in quella fase di gioco il Foggia mi era sembrato da un punto di vista dei giocatori in campo crederci un po' di meno viceversa l'inviato a bordo campo diceva quanto Delio Rossi fosse ancora carico nel far capire ai propri giocatori che l'impresa era ancora possibile. Fatto il gol del 1-0 il Foggia ha avuto probabilmente il calcio di rigore per il 2-0 che l'arbitro Giordano però non ha concesso un fallo di mano io ti dico la verità non ci capisco più niente oramai con i falli di mano vengono dati rigori allucinanti in questo caso mi sembra che il braccio fosse esteso non ci sono stati grandi replay per capirci qualcosa in più comunque Giordano a rigore non l'ha concesso il Foggia però non si è arreso ci ha creduto bravissimo Beretta a costruire un'occasione e la botta da fuori area di Frigerio per il 2-0 è veramente strepitosa siamo in minuti di recupero correttamente vengono assegnati 6 minuti di recupero anzi forse fin pochi per tutto il tempo che si era perso durante il resto della sfida il Foggia si ributta ancora l'attacco conquista un altro calcio d'angolo e questa volta il gol vittoria Contec lo trova con un tiro che non gli esce preciso gli esce una mezza svirgolata imparabile per Saracco esplode veramente la Boggia entra in campo chiunque ma capisco l'emozione e l'entusiasmo per aver saputo rimontare una partita di questo genere i tre gol erano quelli che servivano peraltro poi con i risultati anche delle altre partite tutte le squadre che giocavano in casa la gara di ritorno si sono qualificate il Lecco ha eliminato l'Ancona il Vicenza ha eliminato la Pro Sesto il Pescara e la Virtus Verona e nell'altra sfida Lentella ha recuperato la sconfitta sul campo del Gubbio e quindi tutte queste squadre accedono ora al nuovo turno di quarti di finale dove raggiungono anche Pordenone, Cesena e Crotone arrivate seconde nei gironi che entrano solo in questo momento quindi nell'agone di questi eccezionali playoff sono curioso dei sorteggi che avverranno proprio questa mattina il Foggia credo nel complesso abbia meritato comunque la qualificazione proprio per il fatto di non essersi mai arreso e di averci creduto fino in fondo e invece il Cerignola credo debba soprattutto più i due aspetti sono questi le incertezze evidenti sulle palle ferme sui calci d'angolo quando per il resto su azioni manovrate di fatto non è stato concesso sostanzialmente nulla al Foggia se si eccettua quel bellissimo gol di Frigerio nel finale e poi davvero troppo a poca capacità di costruire gioco in attacco si è pensato molto a perdere tempo quasi come si attendesse soltanto l'evento il finale di gara eccetera non c'è stata quella necessaria capacità di fare magari quel gol che avrebbe sicuramente messo il Foggia in ulteriori difficoltà comunque partita molto bella molto emozionante la Serie C da questo punto di vista non tradisce mai vedremo ora la nuova fase di playoff molto curioso dei sorteggi vi do le mie pagelle e poi attendi i vostri commenti Dalmasso 6 Routiens 5 Contex 7 Rizzo 6,5 il più continuo Contex è un premio anche per il gol che ha fatto nel finale 6 a Biarkazon 6,5 a Frigerio 7 a Peterman 5,5 a Di Noia 6,5 a Costa 6 a Berette 6 a Peralta dei subentrati 6 a Leo 7,5 all'ottimo Schienetti positivo anche Jacoponi quando è entrato e Di Pasquale è entrato invece all'ultimo secondo proprio 7,5 a Deglio Rossi per quanto riguarda Cerignola 6 a Saracco 7 a Ligi 6,5 a Blondet 7 a Legrini e credo l'infortuno e l'uscita dal campo di Legrini sia stato uno o l'altro dei momenti chiavi della sfida si era ancora sullo 0-0 quando Legrini era in campo 6 a Russo 6 a Coccia 6,5 a Tascone 6 a Sainz Mazza 5,5 a Dandrea 6,5 a Malcore 6 a Langella 6 a Pazienza Arbitro Giordano non mi è del tutto dispiaciuto manca un giallo a Ligi e secondo me poteva starci un rigore per il Foggia grazie ragazzi iscrivetevi al canale Serie C al suo meglio in questi playoff alla prossima vi attendo ciao a tutti un bacio deluxe grazie a tutti